Ciao a tutti, sono Ivan e benvenuti su DaZero. Oggi vi parlo della Tevo Tarantula Pro. Una delle ultime nate in casa a Tevo è la Tarantula Pro, ormai uscita da qualche mese. Eredita il nome della vecchia tarantula uscita nel 2017, ma sostanzialmente solo quello, dato che le due stampanti sono completamente diverse. Con la Tarantula Pro la Tevo si inserisce nel mercato delle stampanti economiche entry-level, dato che il costo di questa stampante si aggira al di sotto dei 200€. Viene venduta in kit di montaggio, nel vero senso della parola, perché una volta aperta la scatola ci ritroveremo davanti moltissime bustine contenenti la bulloneria e le varie parti necessarie per l'assemblaggio. Il telaio costituito da profili di alluminio 20x40 va completamente assemblato. Le istruzioni di montaggio sono contenute all'interno della SD, in formato PDF. Infatti altra caratteristica della Tarantula Pro è che utilizza una SD in formato standard, invece delle classiche microSD. L'assemblaggio non è molto impegnativo, ma va eseguito con cura, per eliminare sin da subito tutti i problemi strutturali della stampante, come ad esempio il gioco sulla base. Ad ogni passaggio delle istruzioni corrispondono una o più bustine numerate. Basterà quindi seguire le istruzioni in modo lineare per terminare l'assemblaggio in modo corretto. Sebbene le istruzioni siano ben realizzate sono proprio essenziali, quindi dovrete valutare di volta in volta durante il montaggio eventuali migliorie da apportare. Ad esempio vi consiglio di montare il motore dell'asse Z leggermente sollevato. Io ho utilizzato il cartoncino che ho trovato all'interno della scatola come spessore. In questo modo si eviterà di trasmettere le vibrazioni del motore al telaio. Ingegnoso invece il sistema di Tevo di inserire un O-ring all'interno dell'accoppiatore dell'asse Z, per evitare che la barra trapezoidale e l'albero del motore si tocchino. Le manopole del piatto sono stampate, ma il problema maggiore rimangono le boccole filettate che non sono state inserite con cura e quindi risultano storte. Altro problema sono le viti di fissaggio del piatto al carrello Y, che purtroppo girano a vuoto, impedendoci quindi di calibrare il piatto stesso. Una veloce soluzione è quella di bloccare le 4 viti con 4 dadi. Buone invece le molle più rigide che ci permettono di avere una calibrazione del piatto più stabile. Altro consiglio è quello di posizionare le pulegge dell'asse X e dell'asse Y con qualche millimetro di margine. In questo modo potremo tensionare le cinghie una volta fissate. Le cinghie in dotazione sono un po' rigide, quindi molto probabilmente dopo qualche stampa andranno tensionate nuovamente. La Tarantula Pro utilizza un hotend in stile Volcano di E3D con doppia ventola di raffreddamento del filamento. L'estrusore è di tipo Bowden e il feeder è in stile Titan, sempre di E3D. L'alimentatore è da 24V continui stabili e può erogare al massimo 8,5A, quindi una potenza massima nominale di 204W, un po' al limite. Il display è di tipo grafico da 128x64 pixel, ma in formato mini e presenta un alloggiamento per la SD in formato standard. La scheda è una MKS Gen L versione 1.0 che monta un microcontrollore ATmega 2560, mentre i driver preinstallati sono gli A4-988. I motori, almeno nella versione che ho ricevuto io, sono tutti e quattro uguali, con corrente nominale per fase di 1,5A. Il motore dell'estrusore presenta un ingranaggio in plastica già installato a pressione. Le connessioni risultano abbastanza semplici grazie anche ai connettori GX16. Il firmware installato è Marlin ed è già abilitata la protezione del Thermal Runaway. L'area di stampa dichiarata dalla Tevo è 235x235 mm x 250 mm in ma in realtà le misure del piatto sono 240x240 mm e l'altezza massima che può raggiungere è 260 mm. In realtà queste misure non risultano essere proprio corrette a causa di offset impostati sul firmware che riducono l'area di stampa intorno ai 230x230 mm. Tuttavia sono impostazioni che si possono correggere per sfruttare appieno l'intera superficie del piatto della Tarantula Pro. Purtroppo non viene fornito un supporto per le bobine di filamento. È presente un modello stampabile sulla SD ma anche questo non va bene perché non si adatta ai profili della stampante. Sembra quasi che questo modello sia stato inserito sulla SD un po' a caso. Alla prima stampa ci si accorge subito che la Tarantula Pro è molto veloce e questo per via delle accelerazioni di default impostate sul firmware che sono abbastanza alte. Le vibrazioni tuttavia non sono eccessive e l'hotend volcano sembra gestire al meglio il flusso di estrusione anche a velocità sostenute. Tuttavia una messa a punto della configurazione del firmware potrebbe migliorarne le prestazioni. Ma la qualità di stampa è tutto sommato buona anche senza modifiche. E ora veniamo a quello che mi piace e quello che non mi piace della Tevo Tarantula Pro. Buono l'hotend. Il volcano raggiunge la temperatura di set point più in fretta e ci permette di poter utilizzare ugelli dal diametro maggiore senza perdere in velocità. Punto a favore anche per la doppia ventola di raffreddamento anche se potrebbe provocare dei falsi thermal runaway bloccando la stampa. Apprezzato anche il fatto che il carrello dell'asse X abbia la predisposizione per l'installazione del BLTouch. I connettori GX16 se da un lato sono pratici durante l'installazione potrebbero essere fastidiosi in caso di sostituzione dei componenti come la cartuccia riscaldante o il termistore dell'hotend. Ottimo l'estrusore in stile Titan che ci permette di utilizzare anche materiali flessibili come il TPU senza problemi. Peccato invece per l'ingranaggio in plastica inserito a pressione che potrebbe danneggiarsi nel tempo. Punto a favore anche per l'isolante termico già installato sulla parte posteriore del piatto. Peccato invece per le manopole non troppo curate e per il fissaggio sul carrello Y. La scheda custom in dotazione ci permette di avere libero accesso ad ogni tipo di upgrade sia firmware che hardware come ad esempio la possibilità di sostituire i driver dei motori o l'installazione di sensori per l'autolivellamento o per il fine filamento. Purtroppo però non è presente una ventola di raffreddamento per la parte elettronica essenziale se si desidera installare ad esempio i driver TMC. Così come non è presente una ventola di raffreddamento per l'alimentatore. E sempre parlando di alimentatore ne avrei preferito uno un po' più potente perché i 204 W nominali dell'alimentatore in dotazione sono un po' pochi. Da rivedere anche il fissaggio dell'alimentatore alla struttura che infatti risulta essere un po' traballante. Buono invece il connettore XT60 originale AMAS. Il display è un po' piccolo ma è ben retroilluminato. La SD in formato standard è comoda da inserire e volendo potremo anche utilizzare le micro SD tramite un adattatore. In conclusione la Tevo Tarantula Pro è una stampante con un buon rapporto qualità-prezzo ma presenta dei difetti. Difetti che possono essere risolti e anzi con una buona messa a punto questa stampante potrebbe raggiungere una qualità di stampa ottima a velocità anche sostenute. Ma è anche vero che questa non è un'operazione per tutti. Quindi se avete un po' di esperienza e siete alla ricerca di una seconda stampante la Tarantula Pro potrebbe essere una valida alternativa. Mentre se siete completamente a digiuno di stampa 3D meglio orientarsi su altri modelli economici. Come ad esempio la Ender 3 che rimane ancora oggi la miglior stampante economica sul mercato. Direi che con questo è tutto. Vi ricordo che se volete potete anche seguirmi su Instagram per avere qualche aggiornamento in più durante la settimana. Se il video vi è piaciuto lasciate un like. Se avete dei dubbi o delle domande lasciate un commento. Se vi va iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!